Ma come ho detto ai miei collaboratori, ricordatevi che noi in Campania dobbiamo combattere contro due nemici. Il primo è il virus. Il secondo, ed è un nemico che è presente in grande quantità nella nostra regione, il secondo nemico sono i portaseccia. Ecco, voglio tradurre per i nostri amici di Milano, diconsi portaseccia, soggetti dotati di poteri oscuri, diciamola così, che hanno ereditato al bisnone, il nonne, cioè gente che sta male se le cose vanno bene o se non ci sono problemi, stanno male. Vi ho spiegato perché ho alzato i toni parlando con il governo in relazione alle forniture e ho detto al governo, non è un problema della Campania, qui non... Guardate che ci portate al collasso. Bene, hanno preso a volo questa parola, si sono entusiasmati, vedete che sta arrivando il collasso. L'unico collasso è arrivato nel vostro cervello. C'è un buco nero fra le vostre orecchie, con una tale forza di gravità che rende impossibile l'uscita, non solo della luce e delle radiazioni, ma anche del pensiero. Sta arrivando il collasso, non è arrivato niente. Abbiamo sollevato con forza il problema delle forniture, perché se ci arrivano le forniture, come abbiamo detto ai nostri concittadini, il problema è governabile, tranquillamente. Ma ci devono arrivare. Non possiamo arrivare al punto che mancano le forniture per cui non puoi dotare di sistemi di protezione. i medici nel pronto corso, i medici nel reparto, i medici nel generale. È chiaro che la cosa diventa poi complicata.